Ottava Domenica del Tempo Ordinario, ascoltiamo un Vangelo di grande luce, una luce che viene a illuminare i nostri rapporti. Il Vangelo di questa Domenica è fatto in due parti principali. La prima è su questa attitudine di guidare gli altri, pretendere di guidare gli altri senza aver risolto, senza aver illuminato, senza aver redento la propria realtà. Pretendere di guidare altri ed essere ciechi su se stessi. C'è il famoso brano della pagliuzza e della trave, questa realtà per cui si va a controllare, a esaminare le minuzie altrui, mentre non ci si accorge della macroscopica situazione di irrisoluzione personale. La trave in questo occhio, che cosa è? Bene, questo tipo di attitudine è collegato ad una sconnessione. Ciò che pretendo di saper dire agli altri è quello che invece io ho da risolvere per conto mio. E questo ci porta alla seconda parte del Vangelo. Questa seconda parte in realtà è preparata dalla prima lettura, la quale sottolinea più questa parte che non l'altra che è più celebre, più famosa appunto per questa storia, tante volte utilizzata anche in maniera profana della pagliuzza e della trave. Infatti la prima lettura è un bellissimo brano del libro del Siracide. Dice una cosa, quando si scuote un setaccio restano i rifiuti, quando un uomo discute appaiono i difetti. Interessantissimo. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lo dare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. ecco, apparenza e dimensione recondita. La parola rivela i pensieri del cuore, i frutti manifestano come è coltivato l'albero, proprio di questo appunto parla il Vangelo nella sua ultima parte. Ed è molto importante accoglierne la diagnosi, la sapienza. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né albero cattivo che produca un frutto buono. L'albero si riconosce dal frutto, ovvero sia, noi possiamo pensare che sia la corteccia, l'aspetto, il fogliame o quello che sia, no, è il frutto delle cose che ci dà la possibilità di capire con che cosa abbiamo a che fare. Non si raccolgono fichi dagli spini, è interessante, né si vendemmia uva da un rovo. Queste piante sono un po' simboliche. Fichi e uva erano i segni della terra promessa, soprattutto l'uva, ma anche i fichi. Per l'appunto erano i frutti che venivano magnificati nella descrizione di questa terra verso cui il popolo d'Israele, venendo da 400 anni di schiavitù, camminava questa meta meravigliosa. È il segno del compimento, dell'arrivo della meta. Invece spini e rovi sono proprio gli stessi termini usati in Genesi 3 per indicare la maledizione. E allora c'è un frutto di maledizione quando l'uomo, a motivo del suo peccato, costringe il terreno a produrre bruttezza. È la maledizione del terreno a causa dell'uomo. È un recondito, remoto, richiamo a tutto il problema anche ecologico. È il peccato dell'uomo che distrugge il mondo e lo rende inospitale e brutto. Ecco, spini e rovi contro fichi e uva. Sono due frutti totalmente diversi. Allora, il problema non è nella finezza dei ragionamenti, non è nella presentabilità delle argomentazioni o cose di questo genere. Noi possiamo giustificare tutto nella nostra vita. Noi possiamo convincerci con sofismi, con paralogismi vari, con circolocuzioni verbali di ogni cosa che facciamo, ma quello che conta è il frutto. Noi possiamo pensare tutto quello che ci pare in una forma o in un'altra, ma se il frutto è la sterilità, se il frutto non è la fecondità, l'albero non è un albero buono. Questo è il punto. Però nella prima lettura e anche nel Vangelo tutto termina su un caso ben preciso. Se nella prima parte del Vangelo ci sono questi ciechi che pretendono di guidare gli altri che sono poveri come loro e non si rendono conto che di questo passo portano tutti in un fosso, e mentre appunto c'è questo dire al fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio mentre non ci si accorge della propria trave, ecco qui si va all'uso della parola. Infatti dove termina questo Vangelo? L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Come già il libro del Siracide aveva anticipato? Ecco la bocca parla dalla pienezza del cuore, abbiamo sempre detto citando questo passo e altri passi paralleli. Ovvero sia c'è questo frutto che è il parlare, che ha una radice. I nostri atti hanno una radice, ciò che sovrabbonda dal cuore. Quante volte la gente che si millanta per molto sana, buona, cristiana, impegnata, ma mormora, straparla, critica, emette costantemente veleno e pensa di dire a destra e a manca quel che bisogna fare, che non bisogna fare, come dobbiamo stare attenti a queste cose, come dobbiamo anche valutare e dire sembri tanto buono, ma come apri la bocca spargi veleno. Metti una malizia qui, una illazione lì e queste forme di parlare che producono scomunione, che producono il peccato, la maledizione, l'infecondità. Ecco noi dobbiamo prenderci cura del nostro cuore, di cosa sovrabbonda nel nostro cuore, che cos'è che veramente abbiamo a cuore. Perché noi nel nostro cuore possiamo avere cose molto buone, ma il problema è che se quelle cose buone ci sono, non giustificano la presenza di una serie di porcherie che lasciamo nel nostro cuore. Allora tutto questo diventerà giudizio, pretesa di guida altrui e frutti amari, frutti infecondi. Prenderci cura del cuore vuol dire una cosa ben precisa. Noi crediamo di poter lasciare nel nostro cuore radici ambigue, radici di amarezza. Noi dobbiamo prenderci molto seriamente cura della nostra limpidezza interiore. Noi tante volte crediamo che le cose si rovinano a valle, a valle della nostra esistenza. Le cose arrivano infettate dalle radici sbagliate che abbiamo lasciato dentro di noi. Ecco, questa domenica arriva alle porte della Quaresima. Veramente è il momento di prepararsi a una bella Quaresima per prenderci cura del nostro cuore. Ci si può prendere cura del proprio corpo, ci si può prendere cura delle proprie cose, ci si può prendere cura delle proprie strategie, delle proprie attività, ma se non ci si prende cura del cuore tutto è inutile. Se non si fa questa operazione di igiene cardiaca, noi continuiamo a produrre tutto il male che abbiamo dentro di noi. La purificazione del cuore è un processo lungo, la purificazione dei pensieri è un processo di ampio respiro e benedetto sia il Dio perché arriva la Quaresima che ci permette di vivere un tempo buono, sano, di purificazione.